E poi la preghiera di questa domenica, stupenda. Oddio, nostra forza, nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. Tutto quello che esiste, che è valido, è opera di Dio, è Dio che ci dà l'essere. E fondi su di noi la tua misericordia. Ma che bello, noi di questo abbiamo bisogno, della misericordia, del perdono, dell'amore. Perché da te sorretti e guidati, noi tante volte barcolliamo, non perché ci ubriachiamo. E quante persone si ubriacano realmente e barcollano. Quanti nostri figli, quanti giovani si sballano di brutto in questi locali, nei sabbati sera, in queste feste, in queste rave party. Carissimi amici, barcollano, barcollano. Ma anche quelli che non facciamo uso di alcol o di stupefacenti. Barcolliamo pure, perché ci lasciamo prendere dalla mentalità di questo mondo. Ecco, allora, di che cosa abbiamo bisogno? Della misericordia di Dio. Dio ha mandato nel mondo suo figlio per salvarci, per sorreggerci e per guidarci alla vera meta. E fondi su di noi la tua misericordia, perché sbagliamo continuamente. Perché da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. E come sono belli i beni terreni. Ma, per esempio, noi adesso ce li abbiamo qui, in Italia, qui in Calabria. Noi siamo qui in Calabria, quante cose belle che facciamo, ci mangiamo, vediamo. E questi nostri fratelli che muoiono di fame, 12 milioni di persone, che muoiono di fame, di sete. Non devono che mangiare, quelli che possono fare qualcosa. Come fanno? Noi preghiamo perché il cuore dei potenti possa essere toccato anche attraverso le nostre preghiere. Perché possano usare saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Perché, se no, i beni terreni ne ammazzano. Quante cose che noi avevamo, ma non ne servano. Non è che ci hanno portato la gioia tutte queste cose che abbiamo accumulato, tutto questo benessere che noi abbiamo accumulato. Questi nostri fratelli muoiono di fame e di sete, ma noi moriamo di noia. Tante persone sempre insoddisfatte, sempre che spettegolano, sparlano, parlano male degli altri, mettono benzina sul fuoco invece di portare la pace. Ecco, è un altro tipo di morte. Allora, carissimi amici, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare seriamente, dobbiamo chiedere a Dio seriamente le cose vere.